Purtroppo signori cheater sono tornati a popolare le nostre lobby di Warzone 3 ed a rovinare ovviamente la nostra esperienza di gioco. Non ne ho mai trovati così tanti come nell'ultimo periodo, quindi presuppongo ci sia stato un rilascio di qualche cheat veramente molto potente e magari anche economico, che abbia quindi aumentato il numero appunto di acquirenti di questo servizio. Infatti durante le mie serate in live almeno uno ogni cinque partite lo stiamo beccando. Per cui ho deciso quest'oggi di portare un video, daremo uno sguardo dal suo punto di vista a cosa sta vedendo in quel momento, quindi aimbot, wallack, tutti i simboletti, mod menu, tutto quanto, chi più ne ha più ne metta, sarà una reaction molto particolare. Ma prima di tutto vi invito a passare dal primo link che trovate sotto in descrizione, mi collegherà direttamente al fantastico sito di eneb.com, il miglior sito per acquistare giochi, abbonamenti e ricariche per qualsiasi tipo di console a dei prezzi super vantaggiosi. Mi aiuta a dare un'occhiata al loro catalogo di videogiochi, hanno un sacco di categorie, giochi nuovi, giochi vecchi, insomma per tutti i gusti, ovviamente a dei prezzi super scontati. Oltre ai videogiochi ci saranno numerosissimi sconti anche sulle card PSN, su abbonamenti, ricariche Xbox e un sacco di altre carte regalo per qualsiasi tipo di piattaforma. Tenete sempre sott'occhio il sito perché ogni tanto lanciano qualche codice sconto speciale che abbasserà ancora ulteriormente il prezzo già scontato di queste card. Mi raccomando ragazzi, primo link in descrizione, eneb.com, grazie mille a tutti del supporto, dateci un'occhiata, non rimarrete assolutamente delusi. Direi quindi di non perderci in chiacchiere, vi metto subitissimo le cuffie, vi invito subito a lasciare un like, un commentino ed iscrivervi al canale se ancora non avete fatto. Grazie mille a tutti quanti per il supporto, vi voglio un sacco di bene, io premmo play anche se ho un po' di paura sinceramente. Premiamo start, andiamo ad analizzare il primo video che appunto ho selezionato, che ho trovato, non ce ne sono ancora tanti. Comunque qui possiamo vedere che c'ha un bel aimbot, sicuramente, adesso capiremo dove ce l'ha settato, se il torace è alto. Ha fatto un po' di animazione, avete visto, c'è la ninja, l'ha preso in testa, l'ha preso in testa? Mi sa di sì raga, vediamo se c'è il lock in testa, ok? Cioè, veramente, vabbè, ha un FOV esagerato raga, avrà tipo 400 di FOV. Sono curioso di vedere il lock qui, dove appunto si può settare. Cioè, sicuramente sta sparando al torace alto, però come ben saprete c'è il silent aim che ti permette appunto di prendere il nemico in punti, forse, e che appunto puoi selezionare, come la testa. Qua sta prendendo tutto in testa, quindi presuppongo sia appunto un lock al torace, perché non li sta prendendo realmente in testa, ma i colpi li entrano in testa. Quindi è fantastico questo cheat, raga. Cioè, fenomenale, guardate, triplo headshot col pompa, incredibile. Sto sparando letteralmente in basso, lui... Hipfire non funziona, è interessante sta cosa, non pensavo. Comunque, questo è il primo video che ho selezionato, secondo me il secondo sarà molto più spudorato, sarà ancora più particolare. Qui, vi dico, cioè, visto così, neanche troppo, insomma. Cioè, si vede che la mira è scattosa, però, insomma, mi aspettavo qualcosa di più, di più tipo devastante, ecco. Qui sta usando il cecchino, mio Dio. Oddio, cos'è la slidata infinita? Vabbè, ok, qua si vede traccata perfetta. Sarebbe interessante provarli, vi giuro, raga. Cioè, lo dico sempre che sarebbe bello provare, appunto, la sensazione, cosa si prova ad essere un cheat. Almeno per una giornata, però non credo di rischiare. Anzi, facciamo così, a 100.000 iscritti, quindi, tipo, nel 2000 e mai, io proverò il cheat. Mi farò bannare in diretta, appunto, con voi. Quindi, raga, iscrivetevi, è il momento di farlo. Soprattutto, sia se vi piacciono i miei contenuti, per supportarmi, per farmi arrivare ai 100.000 iscritti, sia se vi sto sulle palle e volete farmi bannare, è il momento di iscriversi. Quindi, uniamo l'utile al dilettevole, qui, in poche parole, ok? Spero di aver ristrappato almeno un sorriso, perché non so se effettivamente lo farò. Però, 100.000 iscritti, raga, ci penserò seriamente di provare i cheat. Prima, no, quindi iscriviti e lascia un bel like, soprattutto. E dimmi cosa ne pensi qui sotto. Qui, raga, devo dire, è molto piacevole. Il 400 di FOV, mi sa che è 400, 200, non lo so, raga, quanto sia. Sinceramente, è molto, molto piacevole, alla vista. Quello, ecco, quello del FOV, uno lo può già più fare, senza rischiare troppo il ban, ecco. Oddio. Vediamo qua, cosa succede? Questa animazione... È morto! È morto! Minchia, l'ha distrutto. Quindi, col movement si può distruggere un cheat, incredibile. Io non vorrei dire, raga. World Warfare 3, Warzone 3, Unlocker più Spoofer, 10 euro un giorno. Ce sono tantissimi, raga. Ma siete pazzi? Questo, ragazzi, è il mode menu. Possiamo vedere che c'è il lane bot, ovviamente. Vedete, c'è anche il silent, puoi abilitarlo e disabilitarlo. Lame bind, che non so cosa sia. Il FOV, dove il lane bot andrà a traccare. Qui, appunto, c'è scritto in testa. Override, non ho idea di cosa sia, sinceramente. Scrivetemelo qui sotto, se appunto sapete. Accuracy, no recoil... È figata, no? E qui ci sono altre impostazioni, appunto, di aggancio, ecco. Possiamo dire targeting, penso che sia una sorta di traduzione in italiano, possa essere aggancio, ecco. Ah, c'è anche l'unlock tool, incredibile. Questo è proprio un cheat super completo, raga. Veramente tutto, no? Vediamo, questo è già più potente. Vedete, è già fatto molto meglio. Si vede uno scheletro un po' più dettagliato. L'altro era proprio buttato lì. Invece qua, guardate quanti dettagli che ha. È molto più precisa sta cosa. Dopo ve ne faccio vedere un altro su Warzone. E questo vi devo dire, cioè, guardandolo così, ok, si vede che sta cittando, palesemente. Però può far venire già più il dubbio, ok? Perché comunque, vedete, Preima non è che sta già traccando dietro il muro. Lui sta mirando appunto nel punto in cui uscirà il nemico. Quindi è molto meno spudorato, se possiamo appunto chiamarlo così. Ovviamente si vede, raga, che c'è un tracking mostruoso, non umano. Ma quasi, anche qua, avete visto il flicchino? Non è stato istantaneo. È stato veramente, veramente tanto bene, secondo me, raga. Qua fa venire il dubbio. Sono impressionato da questa cosa, vi giuro. Molto, molto strano, molto... È stato veramente bene, complimenti al ragazzo. Cosa vi devo dire? Si fanno i complimenti per come ha settato un aimbot. Cioè, posso dirgli se è stato veramente bravo, secondo me? No, non penso. È un po' come dire, bravo, hai rapitato una banca senza farti appunto beccare. Sì, è vero, puoi essere bravo, però comunque hai fatto una cosa un po'... Ok, qui, raga, palesemente silent, perché ha sparato da terra. Vedete, già questo qui, secondo me, è molto simile al cheat che abbiamo visto prima, al mod menu che abbiamo visto prima. Vedete qui, il target cambia colore. Quando è giallo, mi sa che non può traccarlo. Quando è verde, invece, lo tracca in automatico. Anzi no, quando è rosso. Non lo so, raga, come funziona. Sì, sì, è uguale all'altro. È proprio uguale all'altro. Proprio, vedete, tutte le cose attivate. Aim target. Non ci capisco nulla. Fov è ciò che appunto avviene all'interno di questo cerchio. Viene appunto gestito in automatico dal... Dal aimbot, ecco, penso. Appena tolto il silent. Infatti l'ultima kill non era in silent, quindi colpi. Cosa fa, raga? Ci sta facendo... Ci sono tutti i vari profili. Vi spiego ora un modo per riconoscere il cheat. Guardate cosa sta facendo. Lui sta cambiando tutti i parametri, appunto, in game. E quindi sta mirando letteralmente un punto fisso, non si sta muovendo. Quante volte capita di vedere, di spettare queste persone che magari vi hanno ucciso e poi si fermano tutto ad un tratto? Quindi molto probabilmente quando succede queste cose stanno settando diversamente i cheat per non essere segnalati da voi che li state spettando. Un altro fattore, molte volte, è la mira verso il basso. Perché come potete vedere i nemici sono tutti più o meno nella linea dell'orizzonte. Quindi per vedere bene tutti i vari nomi, tutte le varie distanze, si tenderà a mirare, vedete, verso il basso. Guardate, guardate com'è, com'è un centering molto basso. Oddio. Oddio, qua ha messo tutto al massimo. Porco due, raga. Ok, va bene. Il fatto del FOV è molto figo. Il fatto che vedi l'arma così distante, fa molto tipo movement king vecchio di Rebirth Island. Non so se avete mai visto qualche reaction che vi ho portato sui 200 di FOV, ecco. Sembra molto old style questa cosa, mi piace molto. Però al di là di questo, raga, cioè, non prendete i cheat. Cioè, ho imparato a giocare seriamente con i cheat, veramente. Cioè, che gusto c'è? Che gusto? Io vorrei intervistare un cheater italiano un'altra volta che non vende cheat. Perché io, l'unica volta che ho intervistato un cheater era appunto uno che li creava e li vendeva. Vorrei proprio intervistare uno che li utilizza per divertirsi. Ecco, vorrei proprio quello. Io capisco ancora ancora il wallacchino. Lo capisco. Uno dice, vabbè, so la posizione dei nemici. Li spacco. Però la mira è mia, eccetera, eccetera. Quindi già quello, già un wallacchino, posso capirlo. Ma chi utilizza, appunto, aimbot, silent, wallac, tutto quanto, in una sola volta? Cioè, fa tutto il computer. Tu cosa stai facendo? Non stai giocando, non ti stai divertendo. Non hai nessuna abilità, non stai facendo nulla. È proprio brutto, secondo me. Non riesco veramente a capire il divertimento. Ok, qui, appunto, aimbot, un lock alla testa. Anche se non sembra che lockhi alla testa. A me sembra un torace alto, non testa a testa. Però non importa, raga. Qua lo distrugge. Madonna. Cioè, il time to kill per un cheater è ancora più basso. Perché entrano tutti i colpi. Quindi, fondamentalmente, è proprio un millisecondo. Ti ci vuole un millisecondo. Non abbiamo neanche guardato la minimappa. Come ce l'aveva la minimappa? Ah, ok. Vede i puntini, letteralmente. Vede come stanno, appunto, girando i nemici. Vede tutto quanto. Molto interessante. Ecco, questo. Radaracche. Wallachino. Quella cosa che, appunto, è più difficile, in assoluto, essere sgamata. Soprattutto se non c'è un volto in streaming. Oppure anche con il volto. Comunque, con un radaracche, raga. Cioè, io vi posso dire. Sto guardando la minimappa. In realtà, c'ho la posizione esatta dei nemici, no? Quindi, magari c'è qualche streamer. Qualche youtuber. Che magari sta un po' fregando il sistema in questo modo. Io non voglio accusare nessuno. Assolutamente. In Italia non credo ci sia nessuno che fa l'utilizzo di queste cose. Ma magari in altri posti. Qualche record, qualcosa. In America. Magari qualcuno può fare il furbetto. Fatemi sapere, comunque, cosa ne pensate qui sotto. E se siete dei cheater, scrivetemi su Instagram che ne parliamo. E vediamo di realizzare un content. Voglio un attimino parlare con voi. Se avete citato, se siete dei cheater, scrivetemi che vediamo un pochino cosa fare. Vi ringrazio tutti quanti per la compagnia e per il supporto che mi state dando. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commentino e un bacione. Iscrivetevi al canale, raga. Alla prossima. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.